Sì, è uno spazio nuovo, c'è uno spazio molto nuovo, però volevamo darle il senso, soprattutto per l'entrarne ai ragazzi, loro sono molto smart, hanno vinto il bubblemure su social e quindi la ricerca è un'innovazione sulla bike sharing, quindi il servizio di bike sharing in collaborazione con la ministra sociale. Esatto, quello di un comune, con un bando di un'interazione. Però con un'interazione, c'è altri principi organizzatori, c'è un'interazione, c'è un'interazione, c'è un'interazione, c'è un'interazione, c'è un'interazione. Quello è l'idea, cioè testarlo qui e portarlo qui. Grazie.